Noi giovani di Confartigianato crediamo in questo tema, abbiamo intitolato il nostro meeting Energia per la tua impresa, vogliamo creare quelle opportunità, quegli strumenti che possono aprire nuovi percorsi di business verso questo filone che apre opportunità nuove per le nostre imprese. Noi abbiamo analizzato il momento in cui ci troviamo, è un momento di cambiamento, non è una crisi perché non si torna più indietro, è un momento di cambiamento e oggi una delle scelte, direi l'unica scelta obbligata è quella di guardare alla sostenibilità del nostro sistema. La sostenibilità del nostro sistema passa per la gestione delle nostre aziende nel modo responsabile e per la produzione di nuovi filoni di business, dall'innovazione del prodotto e del processo attraverso l'utilizzo di energie nuove, l'utilizzo di una nuova visione di business. Ecco perché in questi due giorni vogliamo portare a casa quante informazioni siano possibili per le nostre aziende. Siamo convinti che la scelta di guardare verso la Green Economy è una scelta obbligata perché questo sarà l'unico sviluppo che avranno le nostre imprese. La formazione e in special modo il nostro evento annuale vuole essere una testimonianza per tutti gli imprenditori perché siamo consapevoli che solo con l'aggregazione, la formazione e la condivisione di idee possiamo mettere in moto quell'energia che fa essere vincenti le nostre imprese.